Acceglierie d'Italia dopo l'incontro romano nella sede di Confindustria di una settimana fa è il giorno del primo confronto tra aziende e sindacati nella direzione dello stabilimento di Taranto. Crediti d'imposta per 750 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Taranto per indebita percezione di erogazioni pubbliche e falsità ideologica in certificati in relazione all'agevolazione fiscale bonus facciate. Un navigatore computerizzato per inserire le protesi del ginocchio e dell'anca e l'apparecchiatura, una delle poche nel sud Italia, di cui si è dotata la casa di cura Bernardini di Taranto un freno ai viaggi degli utenti verso il nord. Buongiorno, ben trovati. Consueto appuntamento con l'informazione dedicata alla città di Taranto e alla sua provincia. In primo piano ancora una volta il siderurgico ionico acciaierie d'Italia. Dopo l'incontro romano nella sede di Confindustria di una settimana fa oggi è il giorno del primo confronto tra azienda e sindacati nella direzione dello stabilimento di Taranto ed in collegamento sul posto per noi il collega Leo Spalluto. Lo intravedo in compagnia di un ospite. Leo, buon pomeriggio. Siamo con Davide Sperti, segretario della Wilm di Taranto. È finito questo primo incontro tarantino dopo il vertice di Roma a Confindustria della scorsa settimana. Era un incontro nel metodo più che nel merito. Quali sono state le risultanze? Nessuna risultanza. In realtà noi avevamo chiesto un incontro a valle di notizie che abbiamo appreso o a mezzo stampa o attraverso comunicazioni indiate nello stabilimento da Milano cioè sia del cambio del capo di stabilimento Ennesimo sia di una comunicazione di un dirigente della Ceredi d'Italia di Milano che ha indicato di aumentare i numeri di cassa integrazione straordinarie. Quindi abbiamo chiesto un incontro perché per noi è basilare se veramente si parla di migliorare le relazioni dare un senso ai confronti partendo dalle basi. Oggi abbiamo fatto questo incontro non abbiamo avuto nessuna risposta per quanto ci riguarda è fondamentale capire gli assetti di marcia l'azienda nega che ci sia un aumento dell'utilizzo di cassa straordinaria noi pensiamo esattamente il contrario specie in alcune aree pensiamo che si stiano impattando gli organici tecnologici quindi c'è un problema non solo di aumento dell'ammortizzatore ma anche di mancata salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori sugli impianti quindi siamo in una condizione ogni giorno peggiore tra l'altro oggi è stato confermato che questa società appena arriveranno i 680 milioni li spenderà per pagare l'energia quindi come la Wilma aveva indicato da sempre non ci sarà nessun miglioramento delle condizioni di lavoro se continueranno a dare finanziamenti pubblici non subordinandoli senza indicazioni precise ed è quello che si sta purtroppo verificandosi nuovamente. Quindi come vi comporterete adesso? Adesso intanto diciamo noi siamo in attesa dell'incontro ministeriale perché quell'incontro è di raccordo solo che è peccato che quando si va a Roma si parla di tutto per poi non parlare di niente la quotidianità nello stabilimento è fatta e continua ad essere di gravi preoccupazioni e di disagi e l'incertezza è diventata l'unica certezza che vige in questo stabilimento. Grazie, si è spostato velocemente il collega, grazie Cambiamo argomento crediti d'imposta per 750 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Taranto per indebita percezione di erogazioni pubbliche falsità ideologica in certificati in relazione all'egevolazione fiscale bonus facciate. Avrebbero percepito indebitamente 750 mila euro grazie al bonus facciate una presunta truffa messa a segno da tre persone di Taranto un amministratore di condominio, un tecnico progettista ed il rappresentante legale di un'impresa esecutrice dei lavori è stata scoperta dalla Guardia di Finanza dalle indagini emerso che l'amministratore ed il tecnico avrebbero attestato il falso relativamente alla data d'inizio lavori di manutenzione straordinaria ovvero il 29 dicembre 2021 due giorni prima della scadenza dell'agevolazione fiscale prevista per il 31 dicembre per opere che in realtà cominciarono nel giugno del 2022 con una documentazione di spesa di 793 mila euro cifra presumibilmente maggiore rispetto ai reali costi sostenuti il rappresentante dell'azienda esecutrice dei lavori avrebbe emesso una fattura pari al 10% della montare delle spese cosicché la presunta truffa avrebbe consentito una maturazione di crediti d'imposta pari a 750 mila euro ceduti all'azienda attraverso il meccanismo noto come sconto in fattura i tre uomini sono stati raggiunti da visi di garanzia dovranno difendersi dalle accuse di indebita percezione di erogazioni pubbliche e falsità ideologiche incertificati mentre è scattato il sequestro preventivo pari alla somma percepita presumibilmente in maniera indebita Di carabinieri della stazione di La Terza nel corso di uno specifico controllo finalizzato al contrasto della criminalità diffusa hanno arrestato un 43enne del posto per detenzione abusiva di arma clandestina e munizioni Nello specifico, a seguito di una perquisizione nell'abitazione dell'uomo i militari hanno ritrovato e sequestrato una pistola abusivamente detenuta e nascosta all'interno di un comodino della camera da letto I successivi accertamenti sull'arma hanno permesso di accertare che si tratta della fedele riproduzione di una pistola semi-automatica originariamente a salve sprovvista di matricola modificata in arma da sparo tant'è che la stessa provvista di un caricatore contenente cinque cartucce calibro 7.65 sarebbe stata pronta all'uso Il 43enne è stato rinchiuso nel carcere di Taranto Un navigatore computerizzato per inserire le protesi del ginocchio e dell'anca è l'apparecchiatura unea delle epoche nel sud Italia di cui si è dotata la casa di cura Bernardini di Taranto un freno dunque ai viaggi dei pazienti verso il nord Uno sopra i viaggi della speranza verso le strutture sanitarie del nord per il posizionamento delle protesi alle ginocchia e all'anca è l'obiettivo raggiunto dalla casa di cura Bernardini di Taranto grazie all'introduzione della tecnologia computerizzata del navigatore BlueX Mirò sviluppato dalla italiana OrtoKey presente in poche strutture della sud Italia tanti benefici per i pazienti che non subiscono alcun aumento di costo rispetto allo stesso tipo di operazione svolta in precedenza ed effettuate in convenzione con il sistema sanitario ne abbiamo parlato con il dottor Giulio Bernardini responsabile del reparto di ortopedia e traumatologia della casa di cura Bernardini Abbiamo fatto un importante investimento per quanto riguarda la chirurgia ortopedica protesica che aiuterà moltissimo i nostri operatori a ridurre gli errori e migliorare ovviamente la qualità degli interventi si tratta di un navigatore computerizzato che assisterà agli interventi di chirurgia protesica del ginocchio e dell'anca il navigatore senza l'utilizzo di esami preoperatori darà appunto la possibilità agli operatori di fare interventi chirurgici riducendo il sanguinamento, riducendo i tempi chirurgici e dando maggiore precisione negli impianti protesici appunto impiantati e questo inevitabilmente darà grandi vantaggi al paziente perché ridurrà il dolore nel posto operatorio, ridurrà il sanguinamento e metterà nelle condizioni il paziente di camminare il più velocemente possibile e quindi di tornare a casa il più velocemente possibile E da Taranto proseguono i lavori di riqualificazione stradale con continui sopralluoghi dell'assessore Matteo Giorno Una città che guarda al futuro con un'attenzione particolare al decoro urbano con questo obiettivo proseguono i sopralluoghi dell'assessore ai lavori pubblici di Taranto, Mattia Giorno Ci troviamo nei pressi della rotatoria con Viale Trentino ad un asfalto gravemente dissestato abbiamo ricevuto per questo diverse segnalazioni ma era già in animo dell'amministrazione intervenire per il ripristino di questa importante affezione stradale perché è altamente trafficata interverremo su entrambe le carreggiate ripristineremo lo stato dell'asfalto che come appunto dicevo altamente dissestato lo faremo su dal semaforo con il sottopassaggio e poi proseguiremo sulle due bretelle laterali che arrivano entrambi diciamo ai due lati di Corso Italia Si ripartirà presto dunque con i lavori per il decoro urbano certo ma anche per la sicurezza di automobilisti e passanti Il centenario dalla nascita di Don Giussani fondatore di Comunione e Liberazione e il suo rapporto con la musica sono stati al centro di un partecipato convegno a Taranto Un pastore che ha lasciato il segno nella vita dei cattolici tarantini la comunità ionica di Comunione e Liberazione ha celebrato il centenario della nascita del suo fondatore Don Luigi Giussani ricordando l'importanza che ha avuto la musica nella sua proposta educativa Spirito Gentil, Don Giussani e la musica è stato il tema dell'evento che ha gremito il salone di rappresentanza della provincia Relatore dell'incontro il musicologo e sociologo Pierpaolo Bellini che ha curato proprio dopo Don Giussani la collana discografica Spirito Gentil presenti i rappresentanti delle istituzioni civili e militari oltre all'arcivescovo di Taranto Filippo Santoro che ha ricordato la sua personale conoscenza con Don Giussani accompagnato dalla vescovo coadiutore Monsignor Ciro Miniero Don Giussani ha sempre usato la musica per educare e quindi non era un musicologo non era un esperto di musica era una persona con una intelligenza straordinaria e soprattutto con un cuore straordinario che andava a cercare nelle testimonianze dei capolavori musicali quello che tutti possono ricevere e aiutava a capire il cuore che è di ogni uomo attraverso questi grandi capolavori è una testimonianza di come spalancandosi al mistero la vita è illuminata e poi l'interesse per la musica che lui ha comunicato anche a noi questa forma artistica capace di esprimere bene il dramma dell'esistenza le domande della vita Noi ci siamo formati ascoltando seguendo guardati da Don Giussani Ed è iniziata a Taranto la rassegna a parole di frontiera primo protagonista il giornalista Paolo Brico che ha scritto un libro sul mito di Adriano Olivetti La storia di un grande italiano Adriano Olivetti è stata la protagonista del primo appuntamento della rassegna letteraria parole di frontiera organizzata da comuni di Taranto presidi del libro e programma sviluppo per ricordare l'autore tarantino Alessandro Leogrande prematuramente scomparso ospite del primo appuntamento presso la biblioteca Clavio è stato Paolo Brico giornalista del Sole 24 Ore e autore del libro Olivetti un italiano del Novecento alla scoperta di un mito dell'industria e della cultura italiana tra i presenti all'incontro moderato dalla collega Domenico Palmiotti anche la sindaco Rinaldo Melucci A mio avviso l'ascito di Adriano Olivetti è fondamentale perché è un grandissimo Adriano un grandissimo creatore di mondi un grande creatore di mondi che poi verranno in qualche maniera nominati e chiamati trovate una definizione nei decenni successivi ecco Adriano Olivetti inventa il welfare aziendale Adriano Olivetti inventa la bellezza coniugata all'innovazione Adriano Olivetti inventa la fabbrica dentro all'economia e dentro alla società come motore di sviluppo e di crescita dell'essere umano è un progetto che ha proprio questo obiettivo cioè di portare a Taranto dei personaggi illustri del mondo della letteratura contemporanea che ci raccontino storie importanti come questa promuoviamo la cultura amore verso la cultura e cerchiamo sempre di più con il nostro impegno di avvicinare i giovani alla lettura è una rassegna che avrà un appuntamento quasi settimanale perché continua con Baca continua con Vincenzo Schettini ed è tutto il TG dedicato a Taranto e la sua provincia termina qui velocemente i titoli di Brindisi e Lecce avrebbero gestito un consistente traffico di cocaina tra le province di Brindisi e Lecce quattro persone sono state arrestate all'alba dai carabinieri tra Tuturano e San Pietro Bernotico ancora numerosi dubbi sulla dinamica della morte del giovane di 27 anni annegato nel porto interno di Brindisi durante il sitino di proteste è arrivata una buona notizia per i 60 vincitori del concorso per pulitori di sanità service Lecce che già dovevano essere assunti dal primo luglio presto dovrebbero iniziare a lavorare nuovamente in diretta la cronaca in primo piano avrebbero gestito un consistente traffico di cocaina tra le province di Brindisi e Lecce quattro persone sono state arrestate all'alba dei carabinieri tra Tuturano e San Pietro Vernotico la cocaina arrivava dall'Albania a bordo di tir che sbarcavano a Brindisi sulla banchina di Costa Morena una scosta tra i bagagli di bus di linea sempre provenienti dal paese delle Aquile poi veniva stoccata e immessa nella rete di spaccio delle province di Brindisi e Lecce quattro persone sono state tratti in arresto all'alba di lunedì dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Brindisi in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Lecce su richiesta della direzione distrettuale antimafia in carcere sono finiti i fratelli di Tuturano Tiziano e Andrea di Gioia rispettivamente di 49 e 45 anni e poi i sanpietrani Rocco Panettieri detto Daniele di 46 anni e Giuseppe De Falco di 36 anni l'accusa è di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti l'indagine è partita nel febbraio 2019 dalle dichrazioni di un collaboratore di giustizia che ha ricostruito un giro di droga e usura con base a Tuturano nel corso dell'inchiesta i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato sette persone sequestrando tre chili e mezzo di cocaina oltre a due fucili a canne mozze e a ingenti somme di denaro secondo gli inquirenti i due capi dell'organizzazione non erano i fratelli Tiziano e Andrea Di Gioia che avevano contatti con personaggi di spicco della malavita di vari comuni delle province di Brindisi e Lecce il padre dei due sarebbe stato il custode del denaro contante gli altri due arrestati Panettieri e De Falco avrebbero avuto il ruolo di corrieri e custodi della sostanza stupefacente che spesso veniva consegnata dai conducenti dei tir e dei bus in un'area di servizio in disuso e poi nascosta nelle loro abitazioni di campagna in attesa di essere stoccata la cocaina veniva poi prelevata dalle case dei custodi e trasferita ai due fratelli di Gioia che provvedevano poi a rifornire la rete di spaccio nelle province di Brindisi e Lecce Ancora numerosi dubbi sulla dinamica della morte del giovane di 27 anni annegato nel porto interno di Brindisi Perché Aris Barletta correva in piena notte nei cantieri navali Balsamo come mai è caduto in mare e per quale motivo le ricerche sono scattate solo 48 ore dopo sarà la procura di Brindisi a chiarire il retroscena del dramma che si è consumato nel seno diponente del porto interno dove domenica mattina è stato ripescato il corpo senza vita del ragazzo Brindisino di 27 anni dalle immagini di videosorveglianza del cantiere si noterebbero i due giovani correre ma non si sa se fossero inseguiti da qualcuno non si comprende però per quale motivo nessuno si sia preoccupato di tentare di salvarlo secondo quanto hanno dichiarato i genitori infatti Barletta non sapeva nuotare l'episodio è avvenuto il primo febbraio ma solo dopo 48 ore quando i genitori del ragazzo si sono presentati dai carabinieri per denunciarne la scomparsa sono state avviate le ricerche ed è stato necessario un altro giorno prima di ripescare il corpo che si trovava nelle immediate vicinanze della banchina del cantiere fondamentale sarà interrogare il giovane che era con lui e che sarebbe stato già identificato dai carabinieri la procura di Brindisi ha deciso comunque di non disporre l'esame autoptico e ha riconsegnato il corpo alla famiglia funerali nel pomeriggio di lunedì alle ore 16 ma al tempo il peggio sembra essere passato sul Salento torna splendere il sole freddo tanto freddo a tal punto che qualche fiocco di neve è venuto giù anche nelle eccese a preoccupare sono state soprattutto le forti raffiche di vento fortunatamente nessun ferito nella caduta di rami e segnali stradali a Giorgi Lorio frazione di Surbo una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce è intervenuta in via dell'Aquilone dove era stata segnalata dal proprietario di una lancia Y la caduta dell'intero albero finito sul mezzo a Copertino è venuto giù un palo della luce a Lecce in piazza Duomo si è registrato il distacco dei calcinacci dal campanile alcuni anche abbastanza voluminosi terminata allerta arancione della protezione civile sul Salento torna a splendere il sole questo porterà ad un leggero aumento delle temperature pur sempre al di sotto della media del periodo nelle prossime ore la situazione andrà attenuandosi lentamente e ci spostiamo a Brindisi per parlare di medici in fuga a Brindisi non possiamo permetterci neanche i medici a gettoni i medici delle cooperative niente gettonisti esterni perché in Puglia non ci sono le cooperative la regione ha scelto infatti di non usufruire di medici che non avrebbero potuto per provenienza e formazione garantire una certa professionalità questo sarebbe un sistema perverso pensate a medici che nello stesso ambiente lavorerebbero con retribuzioni diverse quelli che lavorano a 100 euro l'ora e quelli che lavorano a 24 euro l'ora resta il fatto che senza medici a tempo indeterminato e senza gettonisti la situazione sui territori è ancora più drammatica in organico nel pronto soccorso provinciali dovrebbero esserci 40 professionisti ce ne sono solo 6 dei quali 3 a Brindisi 2 a Francavilla Fontana 1 ad Ostuni e la soluzione temporanea così è stata fatta passare della rotazione fra medici di reparto a sostegno dell'emergenza urgenza non convince perché dovrebbero essere professionisti specializzati in discipline equipollenti o affini all'emergenza urgenza non ci si improvvisa urgentisti nessuno può pensare di surrogare una figura così professionalizzata con medici che hanno delle competenze ma non sono quelle richieste il che vuol dire che questo sistema nel Brindisino non consente un'adeguata copertura inoltre se in entrata non ci sono gettonisti in uscita ci sono i pensionamenti i prepensionamenti e le scelte di vita chi vieta di andare a lavorare al nord o nel privato nessuno e niente nessuno neanche un gettone ben pagato convince i medici a contratto ad accettare il turno aggiuntivo in pronto soccorso stiamo per sancire la morte del sistema sanitario nazionale tuone il presidente dell'ordine dei medici Arturo Oliva che spiega come la situazione di estremo disagio porti ad una condizione che Oliva con una battuta definisce così abbiamo i medici agli arresti ospedalieri infatti basti pensare un medico impegnato durante la settimana per 38 ore che poi deve sorbarcarsi dei turni aggiuntivi praticamente vive in ospedale dura presa di posizione da parte del sindaco di Casarano sul futuro del locale ospedale scrive al governatore di Puglia Michele Emiliano per conoscere le intenzioni code di servizi prestazioni non disponibili che costringono i cittadini a viaggi della speranza spesso anche fuori regione per prestazioni sanitarie di base lo denuncia il sindaco di Casarano Ottavio Denuzzo parlando della situazione in cui versa all'ospedale locale Ferrari Casarano è stato sempre punto di riferimento dell'intero territorio del Basso Salento io non so che tipo di scelte abbiano abbiano fatto non so che progetti hanno per il futuro però ripeto noi quello che chiediamo è un po' di rispetto verso tutto il territorio del Basso Salento non solo per Casarano il primo cittadino raccoglie le lamente relative alla carenza di personale sanitario con medici e non costretti a lavorare in emergenza e sotto pressione quindi tutti gli operatori stanno facendo non solo gli straordinari ma qualcosa in più per dare sicurezza ai cittadini si dovrebbe potenziare la struttura ospedaliera di qui la lettera è inviata al presidente della regione Emiliano l'assessore alla sanità palese e alla direzione sanitaria di Lecce chiedendo di avere rispetto per i cittadini bisognosi di servizi sanitari che sono centinaia di migliaia soprattutto in estate con il turismo delle marine ha avuto qualche confronto in tal senso con la regione? no al momento ancora no però ha scritto ad Emiliano? si si anche con l'assessore si lavora alla costruzione della quarta d'ora non è un po' un paradosso? è un paradosso costruire nuove nuove strutture ospedaliere quando poi vengono chiusi determinati reparti cambiamo argomento amministrativi a Brindisi per il centro-destra spunte il nome dell'ex sindaco Pino Marchionna è l'ex sindaco di Brindisi Pino Marchionna il nome nuovo per il centro-destra che ha preso quota nelle ultime ore come candidato a primo cittadino della città adriatica non è un mistero che da tempo la coalizione di centro-destra infatti stesse cercando un nome che andasse fuori dai propri confini e guardasse anche al mondo civico dalle ipotesi che erano emerse quella del questore Schimera e dell'imprenditore Titi che però non avrebbero portato alla classica quadratura del cerchio e da qui nascerebbe l'idea Marchionna un nome che ufficialmente non sarebbe ancora però arrivato sul tavolo di confronto cittadino ma che sembra aver ricevuto invece il benestare degli esponenti regionali di coalizione e che potrebbe arrivare nel confronto locale nel prossimo incontro previsto in questa settimana tra la giornata di giovedì e venerdì l'impressione che l'accordo potrebbe essere vicino con l'assenso di tutto il centro-destra nonostante la storia di Marchionna venga dal partito socialista con il quale fu eletto sindaco nel 1990 poi con due parentesi con l'amministrazione Mennitti e Consales un nome che potrebbe aiutare ad allargare la coalizione verso il centro e guardare anche agli scontenti di centro-sinistra solo sullo sfondo restano invece i nomi interni ai partiti che entrerebbero in gioco solo se una di queste ipotesi terze verrebbe meno e quindi si tornerebbe a parlare di Oggiano per Fratelli d'Italia Quarta per Forse Italia e Lomartire per la parte centrista l'idea per il centro-destra è comunque quella di chiudere con il nome del candidato sindaco entro questo mese di febbraio consegnato alla cittadinanza di Lecce il complesso degli agostiniani Assessore le strutture e i contenitori culturali della città di Lecce vengono restituite alla città ma soprattutto alla comunità che adesso potrà usufruirne attraverso diversi i progetti in cantiere Sì con l'apertura della chiesa e il convento e il chiostro degli agostiniani completiamo l'apertura e la messa a disposizione dei cittadini del Polo Già nello scorso marzo avevamo aperto alla fruizione la biblioteca di ogni bene che era un progetto già avviato e che ha visto appunto l'apertura con un buon funzionamento ci sono già stati 38.000 utenti che hanno visitato la biblioteca ci sono tantissimi iscritti famiglie che si iscrivono e che partecipano a tutte le attività culturali della biblioteca Il complesso degli agostiniani nella sua maestosità è stato ufficialmente riconsegnato alla comunità in una delle sale al piano terra ha trovato posto anche la carrozza dei sindaci di Lecce che risale al secolo scorso e che era custodita all'interno del castello di Carlo V L'intero complesso è fruibile in ogni sua parte e si connota sempre più come polo culturale dedicato alla lettura e alle storie della città che ci consente che ci consente di digitalizzare di mettere a disposizione della cittadinanza e degli utenti tutta la parte relativa all'archivio storico della città e attraverso quello faremo un bellissimo progetto di racconto e narrazione della storia della città attraverso i documenti con modalità anche digitali e innovative Durante il sit-in di protesta è arrivata una buona notizia per i 60 vincitori del concorso per pulitori di sanità service Lecce Ascoltiamo Buone notizie per i 60 vincitori del concorso per pulitori di sanità service Lecce che già dovevano essere assunti il primo luglio cosa che fino ad ora però non è avvenuta ma adesso qualcosa si è mosso e presto dovrebbero iniziare a lavorare Durante il nuovo sit-in di protesta davanti alla sede dell'ASL hanno infatti appreso dal parere favorevole dell'Avvocatura regionale riguardo l'analoga vicenda che stava coinvolgendo i pulitori di Taranto che avevano fatto ricorso all'Avvocatura per vedere riconosciuti i propri diritti C'è una bella notizia relativa al parere dell'Avvocatura regionale rilasciato per la stessa vicenda in ASL di Taranto e là si è affermato appunto che l'interpello in quella sede può essere utilizzato si può far valere perché il personale pulitore veniva già da una selezione pubblica e quindi può tranquillamente essere stabilizzato e questa notizia ci fa ben sperare nello sblocco immediato della famosa determina 17 di Sanità Service legge siamo siamo soddisfatti in realtà la giustizia ha vinto abbiamo studiato tanto oltre a essere qui presenti a fare queste manifestazioni erano comunque supportate da delle leggi la giustizia fa il suo corso e ciò che è giusto finalmente poi accade quindi sì siamo veramente contenti e soddisfatti a pochi giorni da San Valentino si pensa ai primi regali ed il sogno più ambito è sempre il diamante Dottor Scaldia mancano pochi giorni a San Valentino a noi donne piace sognare e pensare a un bel regalo ecco a chi dovesse venire qui in quella che è la gioielleria storica possiamo dire del Salento ma appunto di riferimento regionale cosa consiglierebbe guardi la prima cosa che mi viene in mente è il colore rosso come la passione l'amore e quindi certamente sicuramente dei rubini io infatti ho scelto ho provato a indossare per sognare proprio uno degli anelli che si trova qui all'interno di questa meravigliosa gioielleria se qualcuno le chiedesse un consiglio per una donna appena conosciuta è un regalo proprio per San Valentino il prodotto che lei sta indossando fa parte di una nuova collezione che è stata lanciata da PFE Diamanti fa parte insomma di una collezione multicolor e anche multisides come un un simbolo da regalare alla propria donna alla propria amata per segnare un percorso l'amore è un sentimento che merita di essere celebrato sempre ma per un giorno all'anno a San Valentino è bello essere ancora un po' più romantici e da allora con la festa degli innamorati alle porte i negozi sono già pieni di fiori rossi cioccolatini a forma di cuore ed è il regalo per stupirsi ma il sogno d'amore più elegante rimane sempre il classico ed intramontabile Diamante Dottore oltre al Diamante quali altre pietre preziose ci sono? Allora oltre al Diamante abbiamo altre pietre preziose che muovono i mercati mondiali queste pietre che adesso le mostro e le faccio vedere sono a parte il rubino dei quali abbiamo già parlato gli zafferi e gli smeraldi questa era la collezione anche che le volevo far vedere completa come l'anello che lei sta indossando in quest'attimo praticamente parliamo di un bracciale composto da rubini e orecchino anche questo con rubini e diamanti che fanno parte insomma di questa nuova collezione che stiamo promuovendo adesso con PF Diamanti Ed è tutto il nostro telegiornale termina qui grazie per averci scelto per averci seguito non andate via perché tra pochissimo è il momento dell'appuntamento con lo sport rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo di Puglia di Puglia di Puglia di Puglia